perché è progetto no vabbè ma ho troppo di pubblico e li faccio vedere anche la spesa perché sono troppo belli ma come mi ha sparato dalla punta del piede ma come è possibile no vabbè ha sbagliato vabbè giustamente no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè